Voghera Energia nasce nel 2005 dall'unione di due grandi società. Il vostro rapporto con la centrale di Torre Menapace è diretto perché la società nasce a valle della costruzione e quindi la messa in rete della centrale che appunto si chiama Voghera. E noi Voghera Energia Vendita praticamente vendiamo l'energia che produciamo dalla centrale. Cosa fate sul territorio? Sul territorio specificamente del Pavese e della bassa Lombardia forniamo a tutta la città di Voghera e dell'oltrepo Pavese energia elettrica. Lo faremo ai cittadini proprio in questi giorni, stiamo partendo dalla campagna e lo abbiamo fatto per tutte le partite IVA, le industrie del territorio. Non solo ma anche in Piemonte, in Liguria e anche occasionalmente anche in Lombardia. Il vostro cliente è il tipo al quale rivolgere i vostri prodotti? Abbiamo tutta la gamma clienterale, ripeto dalla famiglia fino alla grande industria. Abbiamo clienti molto noti, famosi e grossi, acciaierie, industrie seriologiche. Abbiamo anche il negozio, l'ufficio piccolissimo, quindi abbiamo tutta la gamma dei clienti utenti di energia elettrica. A questo punto però ci saranno altre aziende concorrenti sul territorio. Ecco, il valore aggiunto che date voi rispetto a queste altre aziende? Qual è? Noi siamo una società che ha alle spalle il gruppo Accelettrable, però allo stesso tempo siamo sul territorio radicati con gli uffici, con i nostri account, quindi seguiamo i clienti praticamente sempre, non voglio dire 24 ore su 24, ma comunque siamo a disposizione. e questo ci ha dato la possibilità di essere completamente nel contesto del territorio. Quindi tutta la zona dell'Oltrepoppavese, Liguria e Piemonte è costantemente eseguita dai nostri dipendenti. I clienti quindi possono venire qui nei vostri uffici, spieghiamo dove si trovano, a Voghera? Voghera, Largo Toscanini 5, proprio nel centro a Via Emilia, che è un po' il corso della città, abbiamo gli sportelli dell'ASM e accanto ci sono i suffici commerciali, quindi il ramo che si occupa della vendita sul mercato libero di energia elettrica. Grazie per la visione!